L'associazione culturale extatica composta dai filosofi fanesi Filippo Cicoli, Giovanni Franchi e Filippo Moretti propone per il secondo anno consecutivo tre giorni di riflessione filosofico-letteraria dal 31 agosto al 2 settembre in collaborazione con l'assessorato alla cultura e turismo. Il tema che verrà preso in analisi quest'anno è il simbolo di cui verranno offerte differenti chiavi interpretative. Il simbolo e l'analisi della sua evoluzione ci consente di leggere, dicono gli organizzatori, in chiave critica i vari aspetti dell'evoluzione della società e attraverso essa anche di conoscere noi stessi, il nostro io ed il nostro dualismo interiore a cui la parola con i suoi limiti non riesce a dare piena forma da qui la necessità di ricorrere ai simboli. Questo in due luoghi forse più deputati per questo tipo di conferenza, la Pinecoteca San Domenico e la suggestiva chiesa di San Francesco dove in caso di pioggia ci si trasferirà alla Memoteca Montanari. E quindi indagare quello che ci ha rappresentato, come è cambiato nel tempo, quello che vogliamo fare in futuro, ragionare sul senso di alcune parole che nel tempo si modificano nella loro accezione, significa anche comprendersi meglio. E unire quelle due parti che la parola appunto greca da cui deriva simbolo sta a significare, cioè il riconoscersi in qualcosa che è base comune, che radice, conoscendo meglio se stessi si può anche immaginare meglio l'integrazione con il diverso che tanto ci spaventa, conoscendone i limiti ma anche le possibilità. La simbologia legata al viaggio, all'eros, alla figura di Chizze e alla ricostruzione della storia della follia saranno i temi delle serate con un parterre di relatori di grande caratura culturale. Altrettanto piacere nel riconfermarli come professor Massimo Donà, professor Giuseppe Girgenti, quest'anno abbiamo due grandi esordi, se vogliamo esordi per noi ovviamente, perché stiamo parlando del magnifico rettore Ivano Dionigi dell'Università di Bologna e della professoressa Nadia Fusini, nota anglicista e massima esperta di Shakespeare e letteratura inglese attualmente in Italia. Quindi per noi è ovviamente un immenso onore, è un immenso piacere poterli ospitare qua e qua devo ringraziare davvero anche il Comune di Fano, l'assessorato alla cultura e al turismo che ci permettono appunto di poter mettere in pratica questo.